E' stato un viaggio lungo, intenso, ma soprattutto molto difficile dal punto di vista emotivo. Stiamo parlando dell'iniziativa di solidarietà promossa dal Circolo Culturale coi libri di Giulianova, in collaborazione con Radio Tortoreto, La Voce dell'Abruzzo e Soccorso Amico. Un viaggio di andata di 1600 chilometri per portare, con due furgoni pieni, materiale esclusivamente sanitario e di primo soccorso all'ospedale della capitale ucraina, che da settimana è sotto i bombardamenti dei russi. Ma loro ritornano deciso di fare di più, dando accoglienza in Italia a due famiglie ucraine, due donne e i loro figli che sono state accolte ed ospitate per il momento in un hotel a Roseto. E' stato veramente un viaggio della speranza, per noi in primis e per le famiglie anche. Noi abbiamo avuto problemi veramente a gestire l'emotività, nel senso che fisicamente eravamo pronti, ma non avevamo sottovalutato il livello emotivo che poteva scaturire quella situazione. Vedere con mano, toccare con mano, incrociare gli occhi della gente che usciva dalla frontiera è stato veramente devastante. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e nel giro di tre giorni siamo riusciti a fare tutto, con non poche difficoltà. Abbiamo portato due furgoni medicinali e kit di primo soccorso destinati all'ospedale di Kiev e di contro al ritorno abbiamo portato in salvo due famiglie, due mamme con quattro bambini che abbiamo cercato di fare la nostra parte anche in questo caso. Le famiglie fisicamente stanno bene, ma mentalmente con quei pochi discorsi che siamo riusciti a fare hanno il cuore gonfio di dolore. Adesso le famiglie sono in quarantena per la questione Covid? Sì, sono state portate qui a Giulianova, hanno fatto tutti gli accertamenti presso l'ospedale, hanno fatto il tampone, sono tutti negativi, sbrigate le pratiche anche in questura, sono state portate presso un residence d'accoglienza a Roseto e adesso stanno facendo i cinque giorni di quarantena come da ITER. Le sto sentendo tramite WhatsApp, comunicazioni molto brevi, stanno bene, hanno voglia di darsi da fare. Ho ricevuto con grande sorpresa una richiesta d'amicizia da un nome appunto sconosciuto, sono andata a vedere il profilo ed era il papà di uno di questi due bambini, il marito di questa donna, che non ha fatto altro che ringraziarmi in tutti i modi per aver messo in salvo parte della sua famiglia. È commovente questa cosa, è molto commovente.